Cronaca, incidente sulla strada provinciale 2 in direzione Carbonia. Un Alfa Romeo 147 ha tamponato un furgone Fiat Ducato facendogli perdere il controllo per alcuni istanti e scaraventandolo sopra un cartello stradale. Il bilancio è di quattro feriti. Operazione antidroga, arrestato un uomo di 59 anni, gli agenti del commissariato di Iglesias in sinergia con quelli di Carbonia ha tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato di Carbonia. Venerdì riunione dei sindaci del Sulcis sul tema della sanità. Tra i principali argomenti all'ordine del giorno lo smantellamento di alcuni reparti ospedalieri del Sirai di Carbonia, l'avvertenza dei lavoratori interinali e i tagli ai piani locali unitari dei servizi alla persona. Nuraghe Sirai, a rischio circa 20 posti di lavoro. Scadrà il 31 dicembre la convenzione tra Regione Sardegna e Atifras e ad oggi non è ancora stata bandita la gara d'appalto internazionale che affiderà i lavori per i prossimi anni. Ben ritrovati su Canale 40. In apertura del nostro telegiornale una ricca pagina di cronaca. Cominciamo con l'incidente che si è verificato ieri sulla strada provinciale 2 tra Carbonia e Villa Massargia dove c'è stato un tamponamento di un Alfa 147 nei confronti di un furgone Iveco Deli. Tamponamento in seguito al quale ci sono stati 4 feriti ma ci riferisce la nostra inviata sul posto Valentina Murgia. È accaduto ieri pomeriggio alle 14.50 l'incidente tra un Alfa Romeo 147 e un furgone Fiat Ducato nella SP2 all'altezza del bivio Pertani in direzione Carbonia. Dai primi accertamenti l'Alfa Romeo ha tamponato fortemente il furgone facendogli perdere il controllo per alcuni istanti e scaraventandolo nel cartello stradale informativo. I passeggeri del furgone Antonio H classe 1965 e Roberto Desi classe 1966 insieme al conducente dell'Alfa Romeo Antonio Giovanni Casanova del 1949 hanno riportato ferite lievi. È andata peggio per la passeggera della 147 Liliana Napoli del 46 la quale è stata ricoverata in ospedale per un possibile schiacciamento delle costole. Sono ancora in corso gli accertamenti ma si suppone che il conducente della Berlina sia stato abbagliato dal sole e non abbia notato la presenza del Ducato. È scattata sabato scorso un'operazione antidroga da parte del commissariato di polizia di Iglesias che in sinergia con il commissariato di polizia di Carbonia ha tratto in arresto un pregiudicato di Carbonia di 59 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato scorso è scattata un'operazione antidroga da parte della polizia di Iglesias che in sinergia con gli agenti del commissariato di Carbonia ha tratto in arresto Paolo Secci un pregiudicato di Carbonia di 59 anni. L'uomo è stato colto in flagranza mentre si trovava a casa di una copia di Carbonia nella cui abitazione sono stati rinvenuti 13 grammi di marijuana, 18 flaconi di metadone, 5 coltelli a serramanico e oltre 5.500 euro in banconote e in monete da 1 o 2 euro che secondo gli agenti del commissariato di polizia di Iglesias e Carbonia potrebbero essere il risultato di una serie di furti nelle slot machine dei locali della zona. I due coniugi sono stati denunciati a piede libero. Nell'abitazione di Paolo Secci sono stati trovati invece quasi 6 grammi di eroina, un bilancino di precisione e due flaconi da 20 millilitri di metadone. L'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel mese di marzo scorso Paolo Secci insieme al figlio Virgilio era stato denunciato a piede libero mentre vendeva nei negozi compro oro di Cagliari oggetti d'oro precedentemente rubati nella zona di Carbonia. E ora parliamo della protesta di un disoccupato di Carbonia di 56 anni che ieri si è presentato in municipio e ha minacciato di ferirsi con una lama con un'arma da taglio qualora non fosse stato ricevuto dall'amministrazione comunale di Carbonia. I particolari in questo servizio. Alta tensione ieri nella sede del comune di Carbonia in piazza Roma. Renato Littera, 56 anni disoccupato, ha minacciato di ferirsi con una lama qualora non avesse ricevuto risposte da parte dell'amministrazione comunale. Prima che la situazione potesse degenerare e che l'uomo potesse abbandonarsi a gesti inconsulti, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Carbonia, la polizia municipale e i medici del 118. La situazione economico-sociale dell'uomo è drammatica. Si tratta di un disoccupato con un figlio a carico. Vive in una casa popolare senza corrente elettrica. L'uomo è stato poi ricevuto nel corso della mattinata dal sindaco Paolo Massidda e dal nuovo assessore ai servizi sociali a cui ha esposto le sue difficili condizioni economiche. Il Comune di Carbonia si è impegnato ad aiutare il Signore compatibilmente con l'eseguità delle risorse di bilancio. Venerdì 14 ottobre alle ore 16 c'è una riunione da parte dei sindaci dei comuni del Sulcis per parlare delle questioni più importanti per quanto riguarda la sanità con lo smantellamento di alcuni reparti ospedalieri dell'ospedale Sirai, l'avvertenza dei lavoratori interinali della ASL 7 e anche il problema legato al taglio delle risorse per quanto riguarda i plus, ovvero i piani locali unitari dei servizi alla persona. Ne parliamo in questo servizio. Venerdì 14 ottobre alle 16 i sindaci dell'Unione dei Comuni del Sulcis si incontreranno per discutere dei problemi del settore sanitario nel territorio. All'ordine del giorno della riunione c'è lo smantellamento di alcuni reparti ospedalieri del Sirai di Carbonia, l'avvertenza dei lavoratori interinali del centro unico di prenotazione della ASL 7, le difficoltà nell'applicazione della SIA e il sostegno per l'inclusione attiva e soprattutto i paventati tagli previsti dalla Regione nei confronti dell'assistenza sociale. E in discrezione dei giorni scorsi la riduzione dei fondi di circa 2 milioni di euro sulle leggi di settore e sull'assistenza domiciliare. I 15 Comuni del Sulcis che aderiscono al distretto Plus, piano locale unitario dei servizi alla persona, probabilmente saranno sottoposti a una decurtazione delle risorse disponibili. Il problema nasce dal fatto che, a differenza degli anni scorsi, la Regione non stanzierà un finanziamento specifico per i Plus rispetto alle risorse destinate alle varie leggi di settore. I pazienti destinatari dei tagli saranno soprattutto i cardiopatici, i nefropatici, gli oncologici, i talassemici, gli autistici, i trapiantati e gli psichiatrici. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Su proposta dell'assessore Virginia Mura, la Giunta regionale ha approvato il piano triennale per favorire l'assunzione dei lavoratori socialmente utili operanti in Sardegna. Il bacino degli LSU negli ultimi anni si è ridotto molto e conta attualmente 52 lavoratori. È previsto un pacchetto di incentivi in grado di stabilizzare i lavoratori socialmente utili attraverso assunzioni a tempo indeterminato sia nel comparto pubblico sia nelle aziende private. Le agevolazioni per le assunzioni degli LSU nel comparto pubblico prevedono la copertura del 100% dei costi degli stipendi per tre anni e del 75% per i successivi due anni. E ora parliamo di Equitalia, del nuovo piano di rateizzazione per gli utenti morosi. Ne abbiamo parlato stamattina con il segretario territoriale della D-Consum, Giancarlo Canceda. Giancarlo Canceda, quali sono le novità per quanto riguarda gli utenti morosi di Equitalia? Dunque c'è una novità interessante. Tutti gli utenti che purtroppo avevano pendenze con Equitalia di vario genere, quindi ha attivato un piano di rateizzazione. Se entro giugno di quest'anno il piano è scaduto per morosità, ovvero non hanno pagato due o più rate consecutivamente o anche non consecutivamente, Equitalia sospende il pagamento e attiva tutte le procedure di recupero equativo del credito con le conseguenze del caso, sia giudiziarie, sia di sequesti, eccetera. Una nuova legge ha stabilito, ha dato la possibilità alle persone morose entro il 20 ottobre, guardate una data importante, si può fare nuovamente richiesta Equitalia saldando le due rate che avevano sospese per rifare un nuovo piano di finanziamento fino a 72 rate, quindi poter mettere tutto il debito a regresso, rimodularlo, ripagare il tutto senza ovviamente incorrere in sanzioni un ricopro credito. Ricordiamoci, 20 ottobre 2016 scade il termine per richiedere questa nuova rateizzazione. Parliamo ora delle problematiche che stanno sorgendo nel cantiere del nuraghe Sirai, il primo nuraghe ad essere stato scavato nel territorio di Carbonia. Sul cantiere lavorano due squadre di lavoratori, in tutto sono circa 20 persone e ciò che desta la preoccupazione è il fatto che la convenzione tra la regione Sardegna e l'impresa appaltatrice dei lavori, ovvero la Tifras, scadrà il 31 dicembre di quest'anno e ad oggi non è stata ancora bandita la gara d'appalto internazionale che affiderà i lavori nei prossimi anni. E ora una buona notizia per quanto riguarda gli appassionati di vini nel sulcis iglesiente perché il 25 ottobre si terrà a Carbonia il primo corso per sommelier. Ne parliamo in questo servizio con l'intervista che ha realizzato per noi Manolo Murendu. Tiziana Cossu, delegata dell'Associazione Italiana Sommelier per i territori del sulcis iglesiente, di Cagliari e del Medio Campidano. Oggi siete a Carbonia per presentare la vostra associazione e contestualmente un corso di sommelier. Sì, per la prima volta appunto nel sulcis iglesiente attiviamo un corso di qualificazione professionale per sommelier di primo livello che appunto la prima parte del percorso che appunto poi qualificherà il sommelier al termine del percorso, quindi di tutti e tre livelli. Diciamo che è una scommessa vincente quella dell'attivazione appunto nel sulcis, essendo un territorio molto importante dal punto di vista vitivinicolo e quindi era necessaria anche una figura professionale che lo declinasse nel modo appunto più importante. Cosa bisogna fare per diventare dei buoni sommelier? Beh, principalmente studiare tanto perché prima di arrivare appunto ad ottenere la qualifica professionale c'è un esame molto complesso, però il nostro obiettivo è quello comunque di definire anche la posizione del sommelier, quindi non più solo come un addetto professionale al servizio del vino ma anche alla comunicazione del vino e del territorio stesso. Come ci si potrebbe scrivere a questo corso e soprattutto quali sono le condizioni? Beh, allora per poter accedere ai nostri corsi è necessario far parte dell'associazione italiana sommelier, quindi il primo giorno appunto di lezione noi facciamo compilare formalmente appunto a tutti gli aspiranti il modulo di iscrizione all'AIS. Da quel momento si entra a far parte come socio ufficialmente dell'associazione italiana sommelier si ha la possibilità di seguire tutti i nostri corsi e le iniziative in tutta Italia. Roberto De Santi, presidente dell'associazione italiana sommelier. Da oggi siete anche in questo territorio, un territorio che anovera delle eccellenze molto importanti per quanto riguarda il settore vinicolo e in prospettiva questo settore può rappresentare anche un importante valore aggiunto economico con i giusti ambasciatori? Sì, certo. Direi che finalmente siamo arrivati nel Sulcis perché era un nostro intendimento da diverso tempo. Dovevamo però organizzarci in modo a portare qui nel Sulcis un corso ben organizzato e di qualità. È un territorio al quale teniamo molto, molto rappresentativo della Sardegna con alcune eccellenze, quindi non potevamo mancare. Domani sera verrà inaugurata a Carbonia l'ottava edizione del Carbonia Film Festival in cui si terrà la lettura in prima edizione assoluta dell'opera A Calè di Emanuele Carrer, opera che sarà letta e interpretata da due attori importanti come Vinicio Marchioni e Milena Mancini, particolari in questo servizio. Domani sera verrà inaugurata l'ottava edizione del Carbonia Film Festival. Alle 20.30 al Cineteatrice, Centrale, due talenti del cinema e del teatro italiano, si cimenteranno con un testo di straordinaria attualità di uno dei maggiori scrittori contemporanei. L'evento di inaugurazione del Carbonia Film Festival è una lettura in prima nazionale assoluta di A Calè di Emanuele Carrer ad opera di Vinicio Marchioni e Milena Mancini. Vinicio Marchioni è un attore di formazione ed esperienza teatrale, celebre soprattutto per aver interpretato il ruolo del freddo nella serie cult e romanzo criminale, per cui ha vinto il premio come miglior attore a Roma Fiction Fest per la prima e seconda serie, rispettivamente nel 2009 e nel 2011. Recentemente è apparso in tv nella miniserie Loriana di Marco Turco, Francesco di Liliana Cavani e Luisa Spagnoli di Lodovico Gasparini. Ha debutato nella regia cinematografica nel 2015 con il cortometraggio La Ripartenza, omaggio in bianco e nero all'arrivo del treno dei fratelli Lumiere. Nella lettura dei passi di A Calè, Vinicio Marchioni sarà coadiuvato dall'attrice e ballerina Milena Mancini, la quale ha fatto parte del corpo di ballo di Claudio Baglioni e di molte trasmissioni televisive, tra cui Viva l'Italia, Buona Domenica e Tira e Molla. Ha lavorato in tutto il mondo con artisti del calibro di Kylie Minogue, Ricky Martin, Robin Williams e Jerry Halliwell, sotto la direzione artistica di Luca Tomassini, Raphael Bonachela e Tina Landon. Ha ballato i numerosi eventi mondiali quali il World Music Awards, European Music Awards, Top of the Pops, l'apertura dei mondiali di calcio di Francia 2000. Nel 2003 ha deciso di interrompere la sua carriera di ballerina e si è trasferita a Los Angeles per studiare recitazione con Bernard Hilliard e Greta Sicat. Rientrata in Italia ha recitato tra gli altri sotto la direzione di Gabriele Mucino, Matteo Rovere, Federico Moccia e Giorgio Capitani. Ed ora un appuntamento per i più giovani. Domani a Carbonia, in Piazza Marmilla, dalle ore 9.30 alle 12, si terrà la festa della lettura. Letture scelte dalle classi e dalle insegnanti segneranno la traccia del lavoro di quest'anno scolastico 2016-2017. L'appuntamento rientra nell'ambito della decima edizione della Città che legge. E ora parliamo di sport, in particolare di calcio, con Renato Scano che fa il punto della situazione per quanto riguarda il Cagliari in attesa della sfida di domenica contro l'Inter. Inter-Cagliari è già iniziata e Frank De Beere e Massimo Rastelli si coccolano i loro bomber perché nel calcio puoi giocare bene, fare le diagonali giuste e spostare i giocatori in campo come Pedine. Ma te la godi se hai chi la palla sa buttarla dentro come Mauro Icardi e Marco Borriello. Icardi e Borriello hanno il gol nel sangue e lo hanno dimostrato anche in questa stagione. Il Rosso-Blu, 34 anni, una vita da goleador, è partito subito forte. Quattro reti nelle zone in Coppa Italia e altre quattro spalmate nelle prime sette giornate anche se il bersaglio grosso è stato centrato nei primi quattro turni. L'argentino, nato a Rosario 23 anni fa, invece ha già timbrato il cartellino sei volte aggiungendo due assist. Sempre gol pesanti visto che il capitano della Beneamata ha distribuito le sue reti con Palermo, decisivo per l'1-1 finale, Pescara doppietta che valse il 2-1, Juventus provvisori 1-1 e poi assist vincente a Perisic ed Empoli, doppietta e 2-0 per i Nerazzurri. Quando invece è rimasto a secco, l'Inter ha perso due volte con Chievo e Roma e ha pareggiato in casa con il Bologna. Intanto, dopo due giorni di riposo, Cagliari di nuovo in campo questo pomeriggio da semini, senza cinque nazionali, Bruno Alves e Taxidis che rientreranno oggi, Nicolo Barella e Nicola Murro domani e Maurizio Isla solo giovedì notte e i lungodegenti Diego Farias, Arturo Ionita e Gio Pedro saranno da valutare le condizioni di Marco Storari e Marco Capuano. I due potrebbero avere il via libera per tornare ad allenarsi in gruppo, mettendosi a disposizione per la trasferta di domenica contro l'Inter di Frank De Baer. La settimana andrà avanti con una seduta a mercoledì pomeriggio, una doppia giovedì e allenamento al mattino, venerdì e sabato, con la rifinitura che dovrà dare a Massimo Rastelli le ultime indicazioni per l'undici da schierare a San Siro nel pomeriggio, poi la partenza per Milano. E con lo sport chiudiamo il nostro telegiornale, ora vi lasciamo alle previsioni meteo e al telegiornale in lingua sarda, Noas in corso. Grazie e arrivederci. Previsioni per mercoledì 12 ottobre. Poco nuvoloso o velato. Vento da sud-est con intensità di 7 km orari. Raffiche fino a 33 km orari. Temperature minime comprese tra 9 e 15 gradi e massime comprese tra 20 e 22 gradi.